E' stato pizzicato proprio nel momento in cui stava cedendo droga a due persone nel parco cittadino di via Monsignor Arena a San Drigo. Arrestato in flagranza un nigeriano di 32 anni domiciliato a Grumolo delle Abadesse, la successiva perquisizione domiciliare, carabinieri e unità cinofila degli agenti della locale Nevi hanno trovato altra marijuana, strumenti per il confezionamento, 650 euro provento di spaccio. Giudizio direttissimo, appena sei mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionale.